E' partita bene l'edizione numero 45 di Assisi Antiquariato. Nel primo fine settimana di apertura i visitatori sono stati circa 4.000, ma soprattutto c'è da registrare un interessante volume di affari, a conferma della ripresa del mercato dell'antico. La qualità degli oggetti in mostra e la professionalità degli operatori rappresentano un punto di forza della rassegna organizzata, come sempre, dal Centro Internazionale Manifestazioni d'Arte. Un pubblico competente, attento e incuriosito ha fatto tappa al Centro Umbria e Fiere di Bastia. Anche quest'anno si è notata la presenza di molti giovani. In questa edizione della mostra Mercato Nazionale è da sottolineare la collaborazione con l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, la seconda accademia più antica d'Italia, essendo stata fondata nel 1573. I visitatori potranno ammirare i disegni realizzati dagli allievi dell'Accademia del 1800, Assisi Antiquariato, che proseguirà fino al primo maggio, è ormai un appuntamento tradizionale di primavera, punto di riferimento tradizionale e imperdibile per appassionati di arte antica, studiosi, collezionisti, operatori del settore e semplici curiosi. Grazie a tutti.